Sport, avventura ed esperienza in natura, Adventure Outdoor Fest arriva in Toscana nel cuore della montagna pistoiese. Dal 15 al 19 settembre a San Marcello Piteio in provincia di Pistoia, quest'area montana della Toscana di grande importanza storica, ambientale e culturale diventa a tutti gli effetti la montagna dello sport, da vivere e scoprire all'aria aperta. Adventure Outdoor Fest è stato presentato in consiglio regionale della Toscana. Questo evento che ha una portata nazionale è un evento che dopo tanti anni, sette, si è svolto sulle Dolomiti, arriva qui, sulle nostre bellissime montagne a San Marcello Piteio, un luogo incantevole, un luogo che potremo raccontare non solo in Toscana ma in tutta Italia. La Toscana può crescere, può competere con le grandi regioni d'Europa solo se tiene insieme la bellezza delle sue città d'arte insieme alla qualità e alle esperienze che nascono nei nostri piccoli borchi. Trekking, escursioni, climbing, mountain bike, yoga e meditazione. Non mancheranno le attività per bambini e famigli. Imperdibile il Montanaro Trail, la corsa in montagna su un percorso di 24 chilometri che attraversa l'Appennino, Tosco e Emiliano. È un valore questa manifestazione per la montagna pistoiese ma per tutta la montagna toscana e per tutta la regione. In una ripresa da questa fase difficile chiaramente lo sport è qualità della vita e è promozione della salute. In programma anche esibizioni musicali, attività culturali, incontri, rassegne di fotografia e cinema come il concorso cinematografico internazionale Adventure Movie Awards che da sempre accompagna la manifestazione. con la selezione di alcuni tra i migliori corto e mediometraggi di avventura del panorama mondiale. È un festival aperto a tutti, sia a sportivi ma anche a chi non ha mai praticato determinate attività e potrà provarle proprio durante questi giorni, per le famiglie, per i bambini. E quindi è un festival dedicato a tutti quelli che amano la montagna e anche chi approccia per la prima volta la montagna. Tutti gli appuntamenti saranno a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria sul sito www.adventureodorfest.com Saranno cinque giorni a San Marcello Piteglio, quindi montagna pistoiese, montagna toscana al 100% di eventi di vario tipo, da agonistici a ludici e anche rivolti al relax.